Pre partita Juventus a Sassuolo La prima di campionato Comunque non è la nostra prima partita della stagione Perché la prima partita della stagione L'abbiamo giocato contro il Modena Sappiamo tutti quanti che cosa è successo Questa prima partita giocheremo con Lopez Che comunque è squalificato Quindi salterà questa partita Con Berardi che dovrebbe firmare da un momento all'altro Il rinnovo del contratto Che poi comunque ci faccio un video so Perché anche qua ci sono molte cose da dire E su Rastadori che tuttora non si sa Se rimane o meno a Sassuolo Quindi io sinceramente a prescindere Cercherei di non far giocare dall'inizio Rastadori Questo sicuramente anche se le parole di Dioniso in comprensa stampa Hanno fatto capire che sceglierà l'attaccante all'ultimo E che forse c'è la probabilità che giocherà lui titolare Cioè proprio Rastadori Anche se ci sono queste voci di mercato Tanti insistenti E' vero che ci siamo rinforzati E non poco Infatti secondo me Ci aspettiamo A me non mi aspetto un campionato Bello Però non mi sbilancio Non mi sbilancio un gran campionato Diciamo che mi aspetto grandi cose Mettiamolo così Perché secondo me Abbiamo fatto un buon calcio mercato E' vero che comunque ho sempre detto Che ci manca qualcosa dietro Però Oltre a quello Secondo me Diciamo che siamo Ben forniti Sia a centrocampo Che in attacco Quindi secondo me potremmo fare tante cose Però è anche vero che dopo La prima partita Soprattutto contro la Juve Noi ci manco Manco dare tanta fiducia a questa squadra E manco dire E no Ed essere B Questo sicuramente No Perché sicuramente E' la prima Cioè è la prima di campionato Sia noi Soprattutto uno Che loro Ci mancano dei giocatori Quindi Magari ora Vediamo Per altre tre Quattro partite Dopo magari Si potrebbe Incominciare A dire qualcosa Ma subito all'inizio Dire Eh no Siamo da Serie B Eh no Siamo da Champions League Io sinceramente Aspetterei un attimo Ho già sentito Voci Eh Se ci salviamo Questo è un miracolo Mamma mia Boh Per me Non è per niente Così Però alla fine Vediamo Quello che dice Il campo Vediamo Quello che succederà Lunedì Perché sicuramente Lunedì Il campo Parlerà Sinceramente Spero In positivo Però con il fatto Che Che ci manca Lopez Diciamo che È un giocatore Molto Importante Quindi Ora vediamo Lunedì Chi Farà giocare Il suo posto E se Farà girare La palla Come comunque Dovrebbe fare Lui Perché comunque Diciamoci la verità Se non c'è Lopez A far girare Sta palla Sta palla Diciamo che Gira un attimino Poco Quindi ora Vediamo Se Chi prenderà Il posto Di Lopez Farà girare La palla O meno Perché secondo me Sarà quello Il punto Il punto Di non ritorno Di questa partita Perché Gli altri Veri che Comunque Ci hanno 3-4 giocatori Che non posso Mettere tra Squalifica E Infortunati Forse anche Più di Tra 4 Però Non mi ricordo Un tifo Juve Quindi non sto La A guardare Nel giocatore Juve Poi è vero Che Nell'altra parte Anche gli altri Si sono Infortunati Rinforzati Con le varie Di Maria Pogba Anche se Infortunato Bremer Quindi ora Vediamo Anche là Se Il Mister Allegri Li metterà Subito In campo Oppure no Però Comunque Non è Una nostra Preoccupazione Ma Diciamo Che Deve Essere Più Una Cosa Dall'altra Parte Della parte Juventino Da noi Spero Che Comunque Daremo Il massimo Perché Comunque È contro La Juve E noi Quando Diciamo Siamo Contro Le Big Italiano Diamo Sempre Il massimo Soprattutto Fuori Casa Quindi Spero Di Mantenere Questo Trend E Poi Vedremo Vedremo Questa Prima Partita Vedremo Quello Che Dà Il Campo Vedremo I Giocatori Chi Farà Meglio Chi Farà Pegli Di Questa Partita Perché Sicuramente Ci saranno Giocatori Migliorati E Giocatori Pregliorati Anche se È solo La prima Però Come ho già detto Non ci montiamo La testa Né da un canto Né dall'altro È solo La prima Partita Poi Comunque Vedremo Man mano Che Verranno Le Giornate Cosa Dice Questo Campinato E Niente Alla fine Quello Che Devo Dire L'ho Detto Magari Scrivete Voi Qua sotto In Commenti Cosa Pensate Soprattutto Di Questa Partita E Niente Ci vediamo Ad un prossimo Video Sempre E Comunque Forza Soprattutto Ciao Ciao Ciao